Che cos'è un ordine restrittivo divino? Un ordine restrittivo divino è un ordine restrittivo o protettivo emesso dal tribunale del cielo per proteggere una persona da un destino, un'istituzione, un affare o una nazione in certe situazioni che implicano in modo chiaro la presenza di un pericolo per i fini prestabiliti di Dio. E una volta ricevuto questo ordine restrittivo, chi lo fa rispettare? Questo è il potere degli ordini restrittivi e per questo motivo che il diavolo è così spaventato dal corpo di Cristo, Sid, perché è consapevole della rivelazione degli ordini restrittivi. Persino nel mondo naturale il provvedimento giudiziale più richiesto negli Stati Uniti, secondo le statistiche, è proprio l'ordine restrittivo. Perché? Quando un giudice emette un ordine restrittivo, allora il giudice insieme al tribunale sono responsabili dell'attuazione di quell'ordine. Dunque, quando il nostro Padre nel cielo, che è il giusto giudice, ci dà un ordine restrittivo, il diavolo è nei guai. Perché adesso il Padre Celeste, come giusto giudice, è responsabile dell'attuazione di quest'ordine, non è responsabilità della persona che viene protetta. Quindi l'esecutore non è il Dipartimento di Polizia, ma è Dio! È Dio stesso! Mi piace questo! Voglio sapere qual è la prima cosa che dobbiamo fare per ricevere un ordine restrittivo divino. La prima cosa che dobbiamo fare, Sid, per ricevere un ordine restrittivo divino dal giusto giudice è pentirsi. Assolutamente pentirsi! Non si sente più spesso questa parola. Ascolta, c'è gente che insegna dicendo che se sei sotto la grazia non c'è più bisogno di pentirsi. Credo che sia una tattica per derubare la nostra autorità di presentarci davanti al Tribunale del Cielo. Perché, Sid, la parola pentimento semplicemente significa stare dritti in piedi e significa letteralmente tornare indietro e allinearsi con l'autorità governativa. Come possiamo comparire davanti a Dio chiedendogli di tenere a bada il diavolo mentre noi non siamo tenuti a bada. Questo è illegale, no? Il diavolo può obiettare davanti al Tribunale Celeste e dire perché dovrebbero tenermi a bada? Per quale ragione dovrebbero tenere a bada me mentre loro non ti ascoltano? Il pentimento ci permette di comparire davanti a Dio e dire Dio, siccome vorrei chiederti di fare qualcosa per me, Signore, io mi rendo conto che ci sono delle aree dove ho infranto la Tua parola, dove non ho camminato come te e grazie a Dio per il sangue di Gesù che è stato versato per cose come queste. Vorrete essere nella giusta posizione quando chiederete. Non c'è nulla in Tribunale che il nemico vi possa contestare quando proverete a chiedere. Raccontami di quella donna nella tua chiesa che aveva bisogno di un ordine restrittivo divino. Oh, lei, ecco, la mia chiesa è molto multietnica, era una donna caucasica e una domenica mattina entrò nel mio ufficio. La durazione era già iniziata, potevo sentire in sottofondo. Lei mi voleva vedere. Realizzai che aveva gli occhi arrossati e le dissi Ma cosa ti è successo? E lei disse Ho pianto tutta la notte. Mi disse Non posso più vivere così e scoppiò in lacrime. E poi disse Avevo un buon matrimonio. Poi scoprì che mio marito mi tradiva nel nostro letto matrimoniale con una donna della metà dei tuoi anni ne fui devastata e poi se ne andò con questa donna e disse Stavo guarendo ma il problema è che abbiamo due figli e disse Dottor Miles tutte le volte che viene a prendere i bambini per trascorrere del tempo con loro lui si presenta con quella donna che ha distrutto il mio matrimonio è come schiaffeggiarmi e a volte è verbalmente aggressivo nei miei confronti davanti a quella donna che ha distrutto il mio matrimonio e piangeva Io sono una figlia di Dio Non posso essere trattata così Non sono spazzatura Dio aiutami E potevo vederla Stava crollando E in quel momento lo Spirito Santo mi disse Chiedile se vuole un ordine restrittivo divino E allora le dissi Ma sorella Vuoi un ordine restrittivo? Lei pensava che stessi parlando del tribunale terreno E reagì e disse No Mi piacerebbe ottenerne uno Ma non ho i soldi Ci vuole tempo Non ho un avvocato Le dissi Ma non sto parlando dell'ordine restrittivo naturale Mentre stai parlando con me Il tuo Padre Celeste ha sentito il tuo pianto E mi sta chiedendo Vuoi che ti porti davanti a Lui Per ottenere un ordine restrittivo divino Contro il comportamento di quest'uomo? E lei disse Vuoi dire che Dio emette ordini restrittivi? E di sì Certo che sì Lui è il giusto giudice È il primo giudice E lei disse Facciamolo E allora le dissi Che cosa desideri? E mi disse Voglio che smetta di offendermi Voglio che smetta di venire a prendere i bambini Con questa donna Che ha distrutto il nostro matrimonio E terzo I bambini mi hanno implorato Di andare a vedere i nonni Che vivono in un altro stato Ma tutte le volte Che gli chiedo di portare i bambini Lui mi ha detto Che se ci vado Lui andrà al dipartimento di polizia di Fenix E sporgerà denuncia Per rapimento di minori E quindi I bambini non possono nemmeno vedere i nonni E io ho bisogno di queste tre cose Allora ci siamo presentati davanti al Tribunale Celeste E abbiamo chiesto un ordine restrittivo Per quest'uomo in quelle aree E Sid In meno di 48 ore Quell'uomo La chiamò piangendo al telefono E disse Io non so perché ti ho trattata così miseramente Non te lo meriti Non sei stata tua ad infrangere il patto Sono stato io E disse Voglio farmi perdonare Disse Ecco cosa farò E iniziò a sputare fuori Tutto quello che era Nell'ordine restrittivo divino Disse Ti prometto Disse Per prima cosa Sì disse Ti prometto Per prima cosa Che ogni qualvolta Verrò a prendere i bambini Non porterò più Quella donna con me Lei rimarrà dietro Te l'ho già detto Tu non meriti Di sopportare questo Numero due Mi dispiace tanto Per l'aggressione verbale Nei tuoi confronti Sono dispiaciuto Non lo farò mai più E poi disse Numero tre Volevi portare i bambini Fuori da questo stato Hai il mio permesso Di portare i bambini Fuori da questo stato In meno di 48 ore Ho deciso Ho deciso Tornerò Verso te Io correrò Chiedendoti perdono Perché so che sei buono Ti vedo Corriere Per l'aggressione verbale Per l'aggressione verbale Per l'aggressione verbale